Signori a fine gara vediamo un roccia distrutto, non è che sono distrutto, non ho pescato proprio per niente, probabilmente l'acquario è qua a tre metri, cioè lui le mie bude pescate e dopo 30 anni cosa aspetta da imparare, credo che sei migliore, dai roccioso, pensare che oggi pomeriggio lo prendi ancora nel culo un'altra volta no perché oggi c'era in palio questa e praticamente roccia avevo visto bene, con l'oro in mano, oro, ma che bella coppa, la coppa del nonno, e andiamo a roccia, roccia è avvilito, attapirato, si sta buttando, no roccia non buttarti, no, no, per te smierete, per te smierete roccia, oro, oro, che bella tampa, è bella, proprio bella, bella, oro, un grande trofeo, oro, oro, e roccia ancora, al mo la mia, non che va a mangiare roccia,